Parliamo di Europa League, una competizione che quest'anno per quanto riguarda le italiane è tutto un affare tra romane e della Roma. Abbiamo già parlato nell'esordio contro il Basaxeir di Istanbul e della prossima avversaria, il Wolfsburg. C'è tutta una storia che abbiamo già raccontato qua su A B-Report Production e che potete tranquillamente vedere, anzi vi consiglio di andarla a vedere. Per quanto riguarda invece la Lazio è in cerca di riscatto dopo la sconfitta in rimonta in Romania contro il Cluj, una sconfitta che fa male per i biancocelesti di Inzaghi perché per un certo periodo di partita avevano pensato di avere in mano la partita, di portare a casa i tre punti e invece poi alla fine la rimonta ha dato la vittoria al Cluj. Adesso il riscatto all'Olimpico contro i francesi del Rennes. Il Rennes, così come era il Cluj, è una squadra inferiore sulla carta rispetto alla Lazio che ovviamente ha i favori del pronostico. Andiamo però a scoprire questa squadra. È un club che nonostante sia tra i più antichi di Francia, in Ligue 1 per data di fondazione è terza dietro soltanto a Olympique Lyon e Bordeaux che ovviamente ha tutta una storia a sé, però nonostante questo, nonostante sia una delle squadre più antiche di Francia, non ha una grande tradizione vincente né in Francia né tantomeno in ambito internazionale. Una prima svolta si ha negli anni 90 quando in Bretagna si decide di puntare fortemente sul settore giovanile e quindi negli anni 90 iniziano a fiorire giocatori importanti. Il fiore all'occhiello è quello Wiltord che poi nel 2006 andrà a giocarsi una finale mondiale appunto contro l'Italia sfortunata per la Francia e il Rennes che poi venderà Wiltord all'Olimpico Lyon per cifre ingenti. In quegli anni il Rennes inizia una prima scalata, una scalata che poi sarà definitiva nella 2000 con l'acquisizione del club da parte di François Pinol che acquista il club già nel 1998 lo porta a diventare uno dei principali club francesi sia in ambito nazionale che anche in Europa portando a partecipare il Rennes, a farlo partecipare per 5 volte in 10 anni alle competizioni europee. Chi è François Pinol? È un magnate fondatore di una società che detiene le quote di maggioranza di marchi di lusso tra cui Gucci, Valenciaga, Saint Laurent, insomma è un vero e proprio magnate internazionale, mondiale che parte dalla Francia per espandere ovviamente dai marchi francesi poi a marchi di tutto il mondo, tra l'altro detiene anche dei possedimenti in Italia tra cui dei palazzi bellissimi in centro a Venezia, insomma è uno dei grandi del mondo, François Pinol, che porta quindi il Rennes ad avere un respiro internazionale, un Rennes che poi dopo però insomma quel decennio 2000-2010 ritorna ad essere un club diciamo di medio livello in Francia. Una terza svolta, quella che ci porta adesso a descrivere il Rennes che va a giocare all'Olimpico di Roma contro la Lazio si ha negli ultimi anni perché due anni fa il quinto posto fa conquistare dopo sei anni di assenza una nuova qualificazione in Europa League al Rennes dove però esce subito alla fase Gironi, l'anno successivo però ovvero l'anno scorso stagione 2018-2019 riesce a vincere la Coppa di Francia e quindi a qualificarsi nuovamente per l'Europa League, vittoria in Coppa di Francia tra l'altro contro il Paris Saint-Germain e un nuovo titolo portato a Rennes in Bretagna dopo ben 48 anni di astinenza, l'ultimo titolo a Rennes era stato proprio una Coppa di Francia nel 1971 ma l'anno scorso fa grandi passi anche in Europa League perché dopo aver passato la fase a Gironi elimina prima il Betis di Siviglia e poi fa sudare tanto l'Arsenal battendolo 3-1 in rimonta in casa, poi all'Emerite Stadium a Wameyang fa una sontuosa partita e ribalta da 3-1 dell'andata e la 3-0 finale con cui l'Arsenal appunto passa il turno, l'Arsenal che poi arriverà fino alla finale contro il Chelsea andiamo a vedere invece la rosa del Rennes partendo dall'allenatore Julien Stefan, 39 anni, nato al Rennes perché il padre, calciatore anche lui ha militato proprio nei rossoneri di Bretagna, è un allenatore molto giovane, un classe di 1980, 39 anni appunto ha allenato per tanti anni nel settore giovanile di diverse squadre tra cui anche quella del Rennes dal 2018 la prima esperienza su una panchina di prima squadra, è un motivatore, è un allenatore che sa tirare fuori la personalità dai propri giocatori è il principale forgiatore diciamo così di Ousmane Dembélé che poi esploderà prima con il Borussia Dortmund e poi adesso come sapete appunto con il Barcellona è un allenatore che predilige sia la linea 4 con 4-4-2 classico per il Soren sia però anche quando ci sono squadre molto sfrontate che giocano un calcio molto verticale, molto profondo come appunto la Lazio, predilige a volte anche la linea 5 addirittura in difesa 5-3-2 e probabilmente all'Olimpico di Roma vedremo un Rennes che giocherà con 5 difensori, 3 centrocampisti e 2 attaccanti il portiere Eduard Mendy classe 92 senegalese è il portiere di riserva della nazionale senegalese dietro di lui, anzi davanti a lui c'è Alfred Gomis che noi conosciamo molto bene per il suo passato alla Spal ora gioca nel Dijon appunto in Francia, in Ligan davanti a lui linea 5 in difesa o linea 4 lo staremo a vedere, il capitano è appunto il difensore centrale Damien Da Silva al centro della difesa arrivato nel 2018 dal KN con cui è arrivato dalla Ligue 2 alla Ligan, insomma è un maestro di promozioni il capitano del Rennes, ma la vera qualità del Rennes sta a centrocampo partiamo da Eduardo Kamavinga, è una mezzala, è nato in Congo addirittura a un classe 2002 nell'aprile del 2019 a 16 anni e mezzo, 16 anni e 5 mesi, anzi meno di 16 anni e mezzo fa il debutto in Ligan diventando il calciatore più giovane a debuttare in massima divisione il suo cartellino adesso vale già sui 15-20 milioni, insomma è un giocatore uno dei veri e propri astri nascenti del calcio francese da tenere d'occhio accanto a lui Benjamin Boregio, è un centrocampista centrale, 25 anni il suo cartellino vale sui 20 milioni, o meglio questa era la richiesta quest'estate del Rennes ad un'offerta avanzata da Ziviglia di Monci che offriva sui 12-13 milioni insomma io credo che con 15 milioni si potesse portare a casa, fatto sta che Rennes secondo quando si è detto durante quest'estate voleva una cifra sui 20 milioni ed è proprio anche questo che ha intimorito la dirigenza della Roma che aveva sondato il terreno per questo centrocampista poi ha preferito non avanzare offerte e puntare su altro per il centrocampo di mister Fonseca. Là davanti ci sono delle conoscenze del calcio italiano il primo è Bayern Young che ha fatto molto bene l'anno scorso, 14 gol in 44 presenze tra campionato, Coppa, Europa League, insomma ha fatto discretamente, si è un po' ripreso dalle esperienze non positive in Italia, tanto da convincere i dirigenti del Rennes a riscattare il cartellino, quindi di fatto il riscatto ha pagato 15 milioni dal Torino e adesso è a tutti gli effetti una giocatore del Rennes ha bagnato il suo esordio nelle prime otto presenze tra campionato ed Europa League già con 4 gol, insomma sembra definitivamente rinato un Bayern Young anche se restano ancora delle lacune, delle amnesie di un giocatore che forse non arriverà mai a sbocciare definitivamente perché ormai insomma l'età inizia a farsi sentire. Accanto a lui c'è Rafinha, non il Rafinha del Barcellona, di proprietà del Barcellona che adesso gioca nel Zeltadigo ma Rafinha con la F scritta in PH, è un brasiliano classe 96, cresciuto negli ultimi anni nello sport in Lisbona, arrivato alla crescita definitiva e pronto ad esplodere. Si è parlato di lui molto in estate anche in Italia per un suo possibile approdo in Serie A, lo ha cercato fortemente anche, o comunque l'ha visionato, la Fiorentina di Daniele Pradè, poi ha preferito virare su altro, insomma il testa a testa è stato vinto dai francesi del Rennes che se lo sono assicurati dallo Sporting Lisbona. In alternativa in attacco Adrien Onou, è un classe 94 che è cresciuto nel Rennes, poi è andato in prestito un po' a giro per la Francia prima di ritornare appunto a Rennes. Lui è una vera invenzione del tecnico Stefan perché ha girato un po' in tutte le posizioni del campo in mediana, a centrocampo ha fatto il mediano, ha fatto il trequartista, ha fatto la mezzala, ha fatto l'esterno addirittura insomma a centrocampo ha girato tutti i ruoli fino a che Stefan non decide di metterlo in attacco e da lì li trova la sua collocazione. È la vera alternativa alla coppia formata da Rafinha e Niang, uno più mezzala, più seconda punta Rafinha e l'altro Niang attaccante più di peso. Arriviamo alle conclusioni. La Lazio questa partita non la può sbagliare perché è la prima in casa in Europa League, perché all'Olimpico c'è tanta attesa per questa sfida, perché viene anche in campionato da un momento di, non dico euforia, ma comunque di positività attorno all'ambiente bianco-celeste. Insomma c'è bisogno di vincere questa sfida e ci sono tutti i valori sia tecnici che atletici che mentali per poter far bene. Il Ren è una squadra che gioca bene il pallone, sa difendersi, sa ripartire, specialmente appunto con la coppia Rafinha-Niang. Ha un allenatore Stefan che sa veramente come gestire il suo gruppo, quindi c'è da fare attenzione soprattutto ai primi 15-20 minuti all'approccio del Ren, però la partita la deve fare la Lazio di Simone Inzaghi.